Sì, ah? Eccomi! Per comodi! Riciderà? Perquisizione, ecco il mandato, perquisizione in tutto il caseggiato. Perché cosa andate cercando? Senta, non cada dalle nuvole, lo saprà anche lei, noi stiamo cercando una repurtiva del supermercato, se preferite la merce acquistata presto fortemente ribassata. E la venite a cercare proprio qui da me, come dire che io sono un teppista, un ladro, un valore, senza la prenda come le pare, io non c'entro, ho ricevuto degli ordini, ne devete dire. Eseguo, esegua pure, ma la verità è che questa è una provocazione, se le buono, venite anche a sforzarsi, oltre che ci fate crepare di pane. Senta qua, senta, 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 omogenizzato per cani e gatti, senta, senta la porcheria, senta. E sai perché? Perché a noi non è consente di mangiare delle cose a cristiani, perché tutto costa un occhio nella testa, senza di colirsi, e dico, ma lei davvero mangia questa roba. Ma se non è male, sta qua, di due gotti di limone, va giù che è scherco di gatto omogenizzato. Vuol favorire? No, grazie, non vomito mai prima dei passi. La capito? Ad esempio, se preferisci una minestrina calda, io gli ho detto, minestrina di miglio per canarino. Ma cosa sta a sforzare lei, miglio per canarino? Ma neanche per idea, eccola qua, miglio per canarino. Guardi, cosa mi devi dire, c'è anche scritto, lei mangia queste minestrine, dopo un mese comincia a vedere puntare delle piume qua, comincia a diventare un'altra tracca, diventa un vero PS ruffante. detto, detto anche Pule. Tanto che siete ridotti proprio male, eh? Da resto anche noi con il nostro stipendio non si scherza. E con tutto che io mangio in caserna, ti guardi proprio la capisco, e non dovrei dirlo, ma io capisco anche tutte queste donne del partiere che oggi hanno imposto la svendita, ma sì, hanno ragione, personalmente hanno tutta la mia comprensione, contro il furto, contro il furto, non c'è altra difesa che l'esproprio. Ma lei, lei dà ragione? Ma sì, andiamo su, così non si può più andare avanti. E lei non si crederà, io il disgusto di venire qui a fare il poliziotto, di venire qui a fare sta porcata del rastrellamento. Scusi appuntato, lei appuntato, Sì signore. Pietro Cobat Autonomia appuntato. Ma esistono i discorsi da fare, ma questi sono un poliziotto, sono discorsi da estremista. Ma quale estremista? Quale estremista? E che io sono uno che ha ragione. E che si incazza pure, eh? Perché dovete piantarlo di venersi a noi poliziotti di truppa come una massa di reticenti. Che basta fargli un fischio agli uomini, scattare, a vendire, a sbagliare, a mordere. Come dei cani da guardia. E qua è che vi permette di parlare, di discutere. E dite no, conciallè, conciallè. Scusi, scusi, ma se lei la pensa così, ma perché ha scelto questo mestiere di fare il poliziotto? Ma chi ha scelto? Chi ha scelto? Perché lei ha scelto di mangiare sta porcheria per cani e gatti. O le teste di coniglio. E quell'altra schifezza di miglio per canarini è stata di oggettina. Non c'era altro. E anche per me c'era altro. Anche per me. Prendere o crepare, come si dice. Appuntato, non si avremmo finito. Che cosa facciamo? Andiamo avanti. Ma si, andate avanti e non state a rompere le scatole. E non rompere, per Dio, che si si va. Non si fa qualcosa di male, voi andate a me. Dicevo che... L'ha smettato. Aiutato. Dicevo che anche noi siamo sfruttati. Comunque guardi che il mondo sta cambiando, sa? E se cambia... Saluti e buon appetito. Dicevo che dottor che va? Perché lei mi sta offendendo. Ma come va via senza fare un po' almeno di disquisizione? Dico, mi chiuso a dare un'occhiata nell'armaggio. Oppure qui, sotto il legno. E per farsi che? Per farsi che? Per trovarsi un...